Un saluto da Gerardo Paterna per ReTV, oggi consueta intervista con un personaggio direi fuori dagli schemi. Parleremo di comunicazione, parleremo di persuasione, parleremo di mentalismo con Emanuele Spina che ringrazio per essere intervenuto per la sua disponibilità. Ciao Emanuele. Ciao, ciao, grazie Gerardo, grazie a tutti i vostri visitatori della vostra piattaforma perché so che fate cose straordinarie. Diciamo che ci impegniamo, quindi cerchiamo di fare il meglio. Allora Emanuele, io so che tu fai tanta formazione, formazioni per reti vendita, Tech Data, Microsoft, so che arrivi addirittura da esperienze in ambito assicurativo, finanziario, quindi Mediolanum, Generali, anche Grupo Generali, esatto, esatto. Abbiamo avuto modo di parlare anche a telecamere spente un po' degli agenti immobiliari perché tu sai che il nostro principale interlocutore direttivo è proprio, diciamo, il consulente immobiliare. Come vedi questa categoria tanto discussa? Innanzitutto è una categoria discussa come tante altre categorie. Una delle cose più importanti da considerare è che noi crediamo sempre di essere più importanti di altri e giustamente crediamo sempre che siano cose diverse quelle che stiamo vivendo noi. Basterebbe solamente affacciarsi ad altre situazioni, ad altri contesti quando hanno incominciato a ristrutturare un po' le proprie figure, quando è stato necessario alzare le proprie competenze, non solo tecniche perché è importantissimo conoscere bene il proprio prodotto e il proprio mercato, ma anche motive, inevitabilmente diventa una categoria discussa. E allora è importante pensare e immaginare di poter fare la differenza studiando tanto e essere appassionati del settore. Significa che tutte le tecniche di comunicazione e di persuasione che io posso dare ad una rete vendita non faranno mai la differenza se non sono unite anche ad una smisurata e sconfinata passione per questa cosa, per quello che è il vostro settore, per la voglia di dare la giusta risposta a quello che è l'esigenza del cliente. Solo che si può anche imparare, siccome le cose tecniche si possono imparare da soli se vogliamo o facendosi dare una mano, è molto importante invece altre parti, cioè le parti più emotive, emozionali, di comunicazione, dell'intelligenza linguistica, della capacità di persuasione si possono imparare. Ecco, se uno non si sente predisposto e pensa di non avere un dono, potrebbe sbagliarsi. Quindi si può imparare e si può migliorare per essere più persuasivi. Direi un punto di vista decisamente alternativo, ecco, di visione, un punto di osservazione che è molto interessante. Quali consigli daresti ad un agente immobiliare in termini di comunicazione e di approccio. Quindi, proprio in termini relazionali, ma anche di rappresentazione nella comunicazione di se stessi e di ciò che si fa. Spesso ci capita che trascuriamo, potrei dare decine di consigli, sceglierne uno è sempre molto difficile, perché quando tu scopri durante il tuo percorso da autodidatta, da appassionato, da formatore, all'interno della formazione, seguendo praticamente, leggendo ogni libro che esista, seguendo un sacco di corsi, ti rendi conto che potrebbero essere tanti i consigli e quindi o si viene a una delle giornate che faccio, o i corsi, o se no diventa difficile. Oggi mi sento di dire una cosa, che è sicuramente trasformare i nostri clienti in sponsor. Trasformare i nostri clienti troviamo, io posso dare dei suggerimenti, ma sono certo che la creatività italiana può pagare in questo, pensare e immaginare nei prossimi due minuti, da quando sentiranno la nostra intervista, di trasformare i nostri clienti in sponsor, dobbiamo dare un buon pretesto ai nostri clienti per poter parlare bene di noi. E allora come potrebbero farlo? Sicuramente spesso mi capita di dialogare con le reti vendite più diverse e chiunque, quindi anche noi nel settore immobiliare, ci dimentichiamo del cliente, già è difficile abbracciarlo arrivare a chiudere insomma delle trattative importanti, figurati se pensiamo a continuare a costruire un rapporto con un cliente già acquisito, faccio l'esempio perché siamo due uomini, tu immagina nel corteggiare una donna è straordinario fino a quando riusciamo a completare la nostra visione dell'essere arrivati, il giorno dopo alcune volte quando non siamo innamorati, non siamo appassionati e quindi capita anche verso quel cliente, se avessimo voluto solo vendergli la casa, subito dopo perdiamo interesse, giusto? Ed è un gran peccato perché se solo riuscissimo a pensare alla fatica enorme emotiva della selezione naturale per arrivare a quel singolo cliente, a quasi una congiunzione astrale nel riuscire a trovare la casa giusta per quell'interlocutore è la nostra predisposizione a saper comunicare che perdere entusiasmo il giorno dopo verso quel cliente è sbagliato, pensiamo quindi a come poter immediatamente dopo trovare delle strategie per una telefonata, una telefonata può essere di feedback che quello che io dico da mentalista e da illusionista che faccio anche questo è l'effetto wow, cioè quante persone domandiamoci telefono il proprio cliente a due settimane dall'acquisto, a un mese dall'acquisto successivamente, quante persone si prendono consulenti nel nostro campo immobiliare, si prendono del tempo per chiamare, per fare gli auguri al compleanno per il compleanno del figlio o si ricordano e chiedono dopo un anno dal vecchio carnevale tuo figlio adesso che ha 7 anni, si è travestito da Batman come lo scorso anno, ma potete immaginare una telefonata di questo tipo cosa genera, quella persona vi farà fare nuovi clienti perché parlerà bene di voi, perché magari è accanto un partner che neanche si ricorda il proprio compleanno e noi ci ricordiamo il compleanno del figlio, quindi se siamo innamorati, appassionati del nostro interlocutore ci viene spontaneo prendere informazioni, io non ho pur essendo un mentalista una memoria infinita, di fatti prendo spesso degli appunti, perché voglio ricordarmi delle cose importanti, quindi prendiamo l'abitudine a mettere al centro il cliente anche dopo successivamente, da cliente a sponsor, questo mi viene da suggerire. Interessante questo, invece per quanto attiene proprio la rappresentazione di sé nei confronti del mercato, quali sono secondo te gli strumenti che un agente immobiliare dovrebbe così mettere a frutto? Prendere consapevolezza che è un campo, innanzitutto farsi la domanda, lo vogliamo fare davvero? Se la risposta è sì e spero che sia sempre sì, vogliamo esprimerci davvero in questo settore? Dobbiamo essere dei professionisti tecnici e dobbiamo essere dei consulenti che sappiano dialogare con l'esigenza della persona, perché le persone vogliono, l'abbiamo sentito mille volte, è l'ovvio, non lo controlla più nessuno, però mi permetto di sottolinearlo, vogliono essere consigliati, quindi sicuramente costruire un'aurea di consapevolezza, un carisma nel settore di riferimento. Adesso i social possono darci una mano, a costo zero, possiamo essere capaci anche solo a mettere il link di quel giornale che scrive di quello, scrivere che avete letto un nuovo libro, mettere dentro l'articolo del nuovo giornalista del Sole 24 ore che parla di immobiliare, cioè costruirsi una credibilità social sulla propria pagina o su qualunque altro social, di Facebook o altro, per essere esperti agli occhi degli altri e avere competenza. Se ci pensate, noi incameriamo così tante informazioni appassionate del settore che dobbiamo solo pensare di fare un post e raccontarlo alla nostra comunità, che pian piano crescerà e intorno a noi si costruirà una credibilità, perlomeno senza parlare di noi, ma parliamo sempre di noi. È vero, è vero, diciamo che il cliente compra prima noi che la casa. Come sempre capita, assolutamente sì, e se noi risultiamo competenti, capaci nel settore e poi anche abbiamo delle doti, come hai tu, di mettere a proprio agio chiunque si siede qua nel tuo salotto e allora è tutto un po' più semplice. Consideriamo che chi non si sente predisposto potrebbe sbagliare, perché sono cose che si possono imparare e migliorare. Chiarissimo, chiarissimo. Senti, allora Emanuele, il settore della formazione, specialmente, perché il settore di rimuovere è quello più importante in assoluto, come sai, diciamo prima, ovvio, no? Sì, siamo qui apposta, è stato attraverso l'assicurazione, finanze e anche l'assenzione del personale, io sono certo e sono qua apposta per dire a tutti che questo è il settore più importante in assoluto. Esatto. E anche affollato di tanti formatori, formatori di diversissimo tipo, no? Diciamo quelli tradizionali, legati al metodo, ci sono quelli che fanno esclusivamente PNL, motivazione, adesso abbiamo anche delle nuove leve che arrivano, voglio dire, da oltreoceano, quindi queste grandi scuole di formazione motivazionale. Io so che però tu anche fai tanta formazione, sei una persona molto molto preparata, tant'è che Microsoft, voglio dire, qui in Italia si rivolge anche a te, quindi insomma è un ottimo biglietto da visita. Volevo provocarti chiedendoti quali sono i punti distintivi del tuo percorso di formazione rispetto, diciamo, alla concorrenza. Sì, io ho il grande privilegio, la grande fortuna di avere un'altra grande passione, cioè quello che è il mentalismo. È stata sdoganata come parola negli ultimi anni in Italia, ma è sempre esistita. Prima attingeva nell'ottocento, nel novecento al dono, c'erano persone mesmeristi, da Anton Franz Mesber, lunga storia, ti parlerai per ore di chi era, sostanzialmente questi mesmeristi, oggi mentalisti, riempivano i teatri, dicevano di avere un grande dono, riuscivano a leggere la mente della persona, ok? Riuscivano a prevedere il futuro, avevano un dono particolare. Oggi mentalisti dicono di riuscire a leggere la mente con delle tecniche di comunicazione. Ora, in realtà, all'epoca, come adesso, utilizziamo delle sofisticate tecniche di persuasione e di condizionamento mentale, di intelligenza linguistica, che si possono imparare. Più la grande, grandissima dote è di poterla mettere in pratica. Io ho questa grande passione, faccio spettacoli, ogni due o tre giorni ho un evento, e quindi questo mi permette di poter giocare e mettere in pratica, relazionandomi con la persona con la quale dialogo, quanto è facile essere condizionati e condizionabili. E quanto la realtà è pura percezione, quanto l'aurea e la credibilità che diamo possiamo costruirla come sensazione verso l'altro. E allora un illusionista che parla di realtà, un illusionista che ti dice che si può imparare a migliorare la percezione della realtà, se noi agli occhi del nostro interlocutore risultassimo i migliori consulenti, senza neanche parlare, sarebbe qualcosa di interessante, fantastico. Io faccio questo all'interno dei miei corsi. E credo molto nel divertimento, credo molto nella formazione dinamica, credo molto nella parte più giocosa, seria, quindi ci divertiamo seriamente, perché se non incominciamo a divertirci mentre ci formiamo, il nostro cervello non ha voglia, crea dei sabotaggi, è qualcosa che è stato studiato nella neuroscienza. Quindi metto anche in atto spesso delle situazioni di divertimento che spesso capita nello show. Quindi l'arte del mentalismo come rappresentazione di fenomeni paranormali, che in realtà non lo sono, te lo ho appena, ce lo siamo detti, può essere veramente di valido aiuto a supporto di chiunque debba relazionarsi. Ecco, sottolineo, in maniera etica. Cioè tutti questi strumenti non valgono nulla se non sono abbinati a una sensazione pulita, etica, di volere essere di aiuto alla persona con la quale stiamo dialogando, con la quale stiamo dialogando. Più la competenza tecnica del settore. Ecco, se non ci sono questi tre elementi, anche tutte le tecniche del mondo vi possono aiutare magari a vendere una casa, due case, ma non a essere riconosciuti come il migliore nel lungo periodo. Quindi questo fa la differenza. Tu fai formazione sia, diciamo, lato proprio vendita, ma so che segui anche tanti manager che quindi hanno esigenze diverse. Siccome, diciamo, tra i nostri ascoltatori ci sono tanti agenti immobiliari, ma anche tanti dirigenti di aziende che, direi, operano nell'ambito immobiliare. Come differenzi i due approcci? Grazie per averlo chiesto. Allora, immagina che ci sono tecniche per poter migliorare la prestazione personale e tecniche per poter migliorare la prestazione di altri perché si è un coach, perché si è responsabili di una squadra. Io faccio entrambe le cose e faccio una terza cosa, cioè quello che è un coaching one to one, cioè pianifichiamo gli obiettivi, li miglioriamo, sempre con le stesse dinamiche del divertimento, della visualizzazione, del gioco. Gioco intendo dire sempre del divertimento. Certo. E allora ci collochiamo in maniera differente e le classiche cose che abbiamo sempre sentito fino all'altro giorno le viviamo come esperienza personale, di trasformazione personale, emotiva. Se tu vivi un'esperienza di trasformazione personale con un esperimento, un divertimento che dura due minuti, sei predisposto alla meraviglia e quella cosa lì una volta che la provi vorresti farla provare al mondo intero. Immagina che bello se fossimo tutti degli artisti della comunicazione, della persuasione. Tutti quanti sarebbero attratti dal nostro modo di fare. E quindi differenzio in base alle competenze, cioè in base al ruolo. Mi è capitato di fare one to one e pianificare come spesso si fa magari con dei manager, dare suggerimenti su come si gestisce una squadra e portare un risultato, insomma con le stesse dinamiche. Bene. Come si fa ad entrare in contatto con Emanuele Spina? Allora, sicuramente io ho una pagina Facebook Emanuele Spina, quindi mi trovate lì, c'è il mio bel faccione, insomma pelato, insomma. Poi dipendesse da noi chiederebbero tutti i parrucchieri. Diversamente Cappellone. Esattamente Cappellone, il potere della fine, hai perfettamente ragione. Diciamo ci sono ma non si vedono. Sicuramente sulla mia pagina Facebook, io ho un canale YouTube, sempre Emanuele Spina e poi spina.emanuelechiocciolagmail.com perché è quella più informale e poi ho anche un sito che è life-evolution.it dove a Bologna, perché ho aperto lì una sede pur essendo di Torino, trattiamo tutta una serie di altri argomenti, un po' più, se vogliamo, spirituali dove la metamedicina, il potere della guarigione della mente, la meditazione, cose che possono essere di aiuto a supporto. Pensa che abbiamo parlato anche della fisica quantistica in maniera molto semplice su come la percezione della realtà, la fisica quantistica, la neuroscienza racconta che in realtà è limitata. Quindi sono due settori diversi, una sulla parte più rete vendita, approccio pratico a migliorare la competenza e dall'altra un po' più spirituale. Ovviamente anche personale. Sì, perché succede che spesso, siccome io vengo da anni di pratiche di Kung Fu, di meditazione quotidiana, costante, sentivo l'esigenza di costruire e fare alle la mente anche quest'altra accademia. Quindi diciamo che sono questi i due. Vogliamo dare anche un numero di telefono? Ma se vuoi sì, assolutamente. 3-9-3-90-94-9-7-7. Io credo molto nel rapporto subito a voce, quindi se mi chiamano rispondo entro un paio d'ore se non sono in una trasmissione come la vostra. Va bene, benissimo. Allora Emanuele, grazie. E grazie a te, grazie. Ovviamente tornerai ospite molto volentieri e con te anche ci vedremo poi a dicembre per il e le 7 Wars, anche se poi voglio dire che questa intervista la sentiranno in modo postulo, ma ricordiamo che comunque sarai dei nostri, così conoscerei anche tanti agenti immobiliari. Grazie, grazie per l'opportunità che mi hai dato. Buona giornata. Grazie a te. Un saluto quindi da Emanuele e Gerardo, a tutti gli ascoltatori e chi ci segue di Red TV. Ci vediamo magari la settimana prossima con altri live, altre interviste, sempre su Red TV. Continuate a seguirci. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.